Potenti, feroci, padroni incontrastati di Gioia Tauro, questo è in estrema sintesi il quadro che il nuovo collaboratore di giustizia Francesco Trunfio traccia del clan Piromalli, un clan del quale il pentito parla quasi con terrore. Conoscendo l'altissimo profilo criminale delle persone di cui intendo parlare, afferma, temo che già in un periodo antecedente a quello in cui i verbali delle mie dichiarazioni saranno resi noti, i Piromalli possono essere messi al corrente della mia collaborazione. Il giudizio che Trunfio dà della cosca della città del porto è netta e precisa. Posso affermare con certezza che tutto ciò che nel corso degli anni è accaduto a Gioia Tauro è sempre stato deliberato o avallato dai Piromalli. Il pentito quindi non ha dubbi che si tratti di una delle cosche più feroci e potenti del mandamento tirrenico. Trunfio traccia un preciso organigramma della cosca. I Piromalli sono suddivisi in vari rami familiari, anche se quello più autorevole e importante criminalmente è quello che fa capo a Giuseppe Piromalli Facciazza, al figlio Piromalli Antonio, rappresentato a livello criminale da Sciacca Francesco. Il ramo imprenditoriale è gestito da Comerci Nicola, i Bagalacor di Francesco. C'è poi il ramo di Gioacchino e Nino Piromalli, fratelli di Pino, ma hanno un altro modo di operare perché a loro interessano solo i soldi. Il figlio di Don Nino Piromalli è Gioacchino Piromalli detto l'avvocato che gestiva il termo valorizzatore. I magistrati sondano le sue conoscenze in merito a relazioni e alleanze con le cosche del territorio, da Laureana di Borrello, nelle Preserre, fino a Taurianova, nel cuore della Piana di Gioia Tauro. Chi porta il cognome Piromalli non si espone personalmente nei rapporti con le altre articolazioni territoriali dell'Andrangheta. I Mazzaferro, sottolinea Trunfio, avevano però rapporti con le altre cosche e i rapporti implicano anche l'aiuto durante la latitanza. È il caso di Giuseppe Crea di Rizzicone e dell'ergassolano Giuseppe Ferraro di Oppido Mamertina o del boss di Taurianova Ernesto Fazzalari, catturato nel 2016 dopo 20 anni di clandestinità. Tre verbali, quelli firmati da Trunfio, che danno avvia alla sua collaborazione. Un percorso che solo all'inizio e dietro quelle 18 pagine omissate ci potrebbero essere importanti novità sulle dinamiche criminali della potente cosca di Gioia Tauro. Francesco Altomonte per la CNews 24.